Ho subito dato la mia disponibilità al mio movimento dei docenti al fine di sensibilizzare sia il miur che il mondo della politica a trovare una giusta soluzione ed evitare un altro biblico esodo. Così il sindaco di Acate, Franco Raffo, che torna ad esprimere solidarietà ai docenti della provincia, costretti a giorni a trasferirsi al nord per lavorare. Le proposte esposte ad un recento sit-in dai docenti sono molto interessanti, ha rimarcato Raffo, ma sicuramente utopistiche, per una soluzione immediata del problema in quanto richiedono tempi molto lunghi. L'istituzione ad esempio del tempo prolungato in provincia, e parlo come ex-preside, richiederebbe quantomeno un anno di tempo, oltre a rivedere tutto l'assetto scolastico, con il coinvolgimento degli enti locali, preposte a garantire i servizi, le strutture e l'assistenza necessaria. Ancora più complicata, dice Raffo, la proposta relativa all'aumento dei posti di sostegno, che non si possono creare sulla base un decreto e poi nell'immediato. Per sindaco Acatese quindi la posta in gioco è alta e ne va di mezzo l'educazione degli alunni ai loro processi formativi, ma sono risposte che ancora una volta può dare solo il governo nazionale.